Buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana. Ci siamo lasciati alle spalle la festa dell'Assunta, ma andiamo verso la festa di Maria Regina. E come già ho detto più volte, questa settimana dal 16, quindi da oggi, fino a domenica 22, la offriremo in modo particolare per i nostri cari defunti, le anime del purgatorio, le anime dimenticate, e tutte le nostre preghiere saranno per loro, come suffraggio. Quindi uno magari oggi andrà a messa, ecco, parteciperà a quella messa come suffraggio per i defunti. Deciderà di dire un rosario, bene, quel rosario sarà per i defunti. Noi alle 7, questo lunedì mattina, di mattina appunto, pregheremo il primo rosario per loro e poi alle 15 la coroncina. Ma appunto perché questa settimana è dedicata ai defunti, facciamo una preghiera per i nostri morti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici, conoscenti, che nel corso di questi anni ci hanno lasciati per coloro che in vita hanno avuto fede in te, che in te hanno riposto ogni speranza, che ti hanno amato, ma anche per coloro che di te non hanno capito nulla e che ti hanno cercato in modo sbagliato e ai quali infine ti sei svelato come veramente sei. Misericordia e amore senza limiti. Fa, o Signore, che veniamo un giorno tutti insieme a fare con te festa in paradiso. Amen. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Accogliete la Santa Benedizione che vi possa guidare in questo giorno, in tutte le ore della giornata e in tutto ciò che farete. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi ricordo inoltre che alle 15 ci ritroviamo per la coroncina alla Divina Misericordia. Come sempre vi abbraccio con tutto il cuore, vi voglio bene e vi mando un bacio, fraterno.